Buongiorno, io sono Simone Ciadamidaro, sono un ecologo, un ricercatore del Laboratorio di Biodiversità e Servizi Ecosistemici dell'Enea. La mia presentazione verterà sulla valutazione dello stato dei corsi d'acqua, che è uno dei filoni di ricerca principali del nostro laboratorio. Per fare questo faremo prima un breve scursus, per quanto possibile, sul quadro normativo in cui ci si muove quando si parla di corsi d'acqua, ma la presentazione non vuole essere esaustiva in questo campo e quindi vi invito nel caso di si vuole fare degli approfondimenti a leggere la normativa o i piani di gestione o i documenti a riguardo. Partiamo da molto lontano per inquadrare l'oggetto del nostro interesse, i corsi d'acqua. Partiamo dal fatto che, come tutti sappiamo, il 94% delle acque su questo pianeta è contenuto negli oceani. Solamente il 2% fa parte di quelle che vengono definite acque interne, acque dolci quindi, che sono così importanti per la vita dei vertebrati e anche dell'uomo, e il resto è ghiaccio o vapore e quindi indisponibile. In verità per la nostra presentazione ci rivolgeremo a quelle che sono definite dalla normativa acque superficiali, vale a dire non solo le acque dolci, con le acque lotiche, quindi corsi d'acqua, e le acque lentiche, quindi laghi, invasi e stagni, ma anche due categorie di acque, le acque marino costiere e le acque di transizione, come lagune e stuari, che pur essendo salmastre o saline, sono comunque sia più a diretto influsso da parte delle attività umane. Il fiume, che è quello di cui parleremo, è, come sappiamo, un ecosistema molto complesso e in continua evoluzione. Questa evoluzione sia spaziale, quindi il cambiamento dal monte verso la foce, dovuto fondamentalmente alla variazione di energia contenuta dall'acqua, posseduta dall'acqua, ma anche temporale, con una spiccata dinamica naturale dei sistemi legata al regime idrologico, al trasporto dei sedimenti e che può portare a modifiche anche abbastanza repentine nelle condizioni locali, come in questo caso il percorso del fiume, che come vedete in diversi anni passa in punti differenti, con cambiamenti abbastanza frequenti. La complessità del fiume si riscontra anche dall'analisi delle sue componenti e delle relazioni che ci sono tra le diverse componenti, a partire dal clima, l'orografia e la geologia, che sono i determinanti principali sulla definizione di quelli che sono la chimica, la fisico-chimica, l'idromorfologia dei corsi d'acqua, che insieme all'ambiente ripario vanno a costituire gli habitat per le componenti biotiche, le quali componenti biotiche a loro volta influenzano la chimica, l'idromorfologia del corso d'acqua e con le macrofite, ad esempio, costituiscono essi stessi degli habitat. A questa varietà e complessità di elementi costituenti corrisponde un'altrettanta, diciamo, varietà di possibili alterazioni dovute all'attività umana. L'alterazione tipica, quella più nota e più studiata anche storicamente, è l'inquinamento. L'inquinamento può essere dovuto a sostanze che vengono sversate in acqua di differente tipologia. Ci sono quelle di ossigenanti che sottraggono ossigeno all'acqua, quelle eutrofizzanti, quindi quelle che apportano nutrienti per la vegetazione che possono portare a scompensi molto forti, soprattutto nei corpi idrici, lentici, recettori, in metalli pesanti, in microinquinanti organici come solventi, detergenti e pesticidi. Esiste poi una categoria di alterazioni, quelle idromorfologiche, che sempre più stanno presentando con maggiore frequenza e intensità nei nostri corsi d'acqua e possono portare variazioni del regime meteorologico, interruzioni di continuità sia longitudinale sia trasversale con la piana inondabile, alterazioni del trasporto dei sedimenti e poi arginature, artificializzazioni dell'alveo, rettificazioni e altre alterazioni della morfologia. Esistono poi alterazioni di tipo termico, quando l'acqua del fiume viene utilizzata per raffreddare delle industrie, delle fabbriche. Inquinamento microbiologico, che deriva fondamentalmente da sversamenti da aree residenziali oppure da allevamenti. E infine una tipologia di alterazione sempre più diffusa, che è quella biologica, che consiste sia nell'eliminazione delle specie autoctone tipiche dei corsi d'acqua, sia nell'immissione di specie aliene invasive, che quindi non appartengono a questo ecosistema, ma sono in grado di, diciamo, prodursi e espandersi anche a livelli da alterare profondamente l'ecosistema. Vediamo qui degli esempi. L'inquinamento chimico può derivare da sorgenti puntiformi, come questi scarichi o diffuse, come quello che deriva dal dilavamento delle aree agricole o delle aree urbane. Le diverse possibili alterazioni idromorfologiche, come rettificazioni, arginature per sottrarre spazi al fiume, magari utilizzarlo per l'agricoltura o per gli insediamenti umani, oppure derivazioni a scopo irriguo, come in questo caso la presa del canale Cavour a Chivasso, o sbarramenti a scopo idroelettrico o riserva idropotabile che alterano sia il regime ideologico sia il trasporto dei sedimenti. Qui abbiamo un caso di centrale raffreddata con l'acqua del fiume e queste due sono due immagini molto eloquenti su due specie aliene invasive, un animale, un pesce, il siluro, che può arrivare a distruggere completamente la fauna propria di un fiume delle nostre latitudini, considerando che è un pesce che viene dall'Europa dell'Est e che qui non ha predatori, non ha competitori che ne limitano il numero. Dal punto di vista invece della vegetazione esiste una specie come questa che è la zucca spinosa, che è una specie erbacea, ma avendo la capacità di arrampicarsi sugli alberi può addirittura arrivare a soffocare, a distruggere la vegetazione riparia. Da tutte queste diverse fonti di alterazione derivano molteplici possibili impatti sugli ecosistemi che possono essere andati a studiare andando a valutare quello che succede alle diverse componenti e più avanti vedremo un esempio. Per porre un limite all'alterazione dei corsi d'acqua, già nel 1976 la legge italiana, con la legge Merli, introduceva dei limiti agli scarichi che potevano essere riversati nei corsi d'acqua. In verità veniva quindi misurato quello che era la concentrazione delle sostanze nello scarico e non l'effetto che si aveva sul corpo idrico recettore. Nel 1999 c'è invece un cambiamento di punto di vista, un diverso approccio, che sposta l'attenzione dallo scarico a quello che succede nel corpo idrico recettore e quindi si va a misurare quello che succede all'ecosistema. Inoltre per la prima volta viene introdotta la possibilità di andare a valutare quello che succede alle componenti biotiche con la possibilità di applicare l'indice biotico esteso che valutava appunto lo stato delle comunità di macroinvertebrati. L'anno dopo, riprendendo e estendendo questo approccio ecosistemico, l'allora comunità europea emanava la direttiva 2060 che istituiva un quadro per la protezione delle acque superficiali e sotterranee. Questa cornice ricomprendeva sia alcune direttive precedenti che riguardavano alcuni usi della risorsa idrica, quindi le acque refluurbane, i nitrati, le acque potabili, le acque di balneazione. Inoltre dava il là alla emanazione di direttive che andavano a guardare specifici argomenti come le sostanze chimiche o le acque sotterranee e inoltre si coordinava con altre direttive che riguardavano argomenti paralleli come le alluvioni o l'ambiente marino. Le finalità della direttiva 2060 possono essere così riassunte. Impedire il deterioramento e migliorare lo stato dei ecosistemi acquatici, quindi interrompere questo processo di peggioramento delle condizioni dei corsi d'acqua e delle altre acque superficiali e anzi migliorare lo stato di quelle che al momento sono compromesse. Garantire un utilizzo sostenibile della risorsa idrica, quindi utilizzare la risorsa ma in maniera sostenibile, quindi assicurando l'utilizzo anche alle generazioni future. Inoltre la progressiva riduzione degli scarichi con la diminuzione dell'emissione di sostanze prioritarie e l'eliminazione di quelle pericolose, ridurre l'inquinamento delle acque sotterranee e mitigare gli effetti delle inondazioni e delle siccità coordinandosi con la direttiva alluvioni. Si ha quindi anche a livello europeo un'evoluzione degli obiettivi. Si passa da una normativa pregressa in cui era centrale l'uso che si faceva della risorsa, quindi direttive sulle acque di balneazione, le acque botabili, le acque per l'alimentazione umana, le acque reflue, che richiedevano un monitoraggio di elementi microbiologici e chimici in siti selezionati per l'utilizzo che si voleva fare della risorsa idrica, a una direttiva quadroacque che invece va a guardare la qualità ambientale dei corpi idrici, con obiettivo ultimo lo stato buono per tutte le acque superficiali. In pratica si dava per scontato che un corpo idrico in buono stato biologico, chimico, fisico-chimico, idromorfologico è quello che meglio soddisfa tutte le esigenze per gli usi produttivi e per la salute dell'uomo. Il monitoraggio passa a diversi elementi. Ovviamente una direttiva europea, e deve essere ricepita dall'ordinamento italiano, e la direttiva del 2060 viene ricepita col decreto legislativo 152 del 2006, da non confondere col 152 del 99 che trattava argomenti simili e ha lo stesso numero. In verità il decreto 152 del 2006 era ancora manchevole sotto alcuni aspetti applicativi, nel senso dovevano essere ancora recepiti e normate degli aspetti tecnici che ne permettessero la reale applicazione. Così negli anni successivi il Ministero dell'Ambiente ha emanato dei decreti ministeriali che andavano a riempire i diversi vuoti rispetto agli aspetti tecnici della direttiva. Il 131 del 2008 riguarda la tipizzazione delle acque superficiali, che vedremo più nel dettaglio per i corsi d'acqua. Inoltre l'analisi delle pressioni e degli impatti e l'individuazione dei corpi idrici. Il 56 del 2009 riguarda il monitoraggio delle acque superficiali, il 260 del 2010 riguarda la classificazione dello Stato sulla base di quello che sono i risultati del monitoraggio e nel 2013 il 156 serve per l'identificazione dei corpi idrici fortemente modificati e dei corpi idrici artificiali. Il decreto 152 del 2006 imposta la gestione delle acque superficiali come gestione integrata delle acque a scala di bacino. Quindi vengono individuati i bacini idografici e identificati i distretti idografici che sono l'unità superiore di gestione dei bacini idografici che possono corrispondere a un unico bacino oppure essere l'insieme di più bacini più piccoli e contigui che vengono gestiti all'unisono. Il distretto idografico viene posto sotto l'autorità appunto delle autorità di distretto che sono quell'organo che andrà a predisporre il piano di gestione di ciascun distretto. In Italia sono stati identificati sette distretti idografici, l'istretto padano, le Alpi orientali, l'Appennino settentrionale, centrale e meridionale, la Sicilia e la Sardegna. Come dicevamo ciascun distretto per rispondere a un piano di gestione che è il piano direttore per tutto quello che riguarda dal punto di vista qualitativo e quantitativo la tutela delle acque superficiali e sotterranee del distretto. Questo strumento è utile al distretto per raggiungere gli obiettivi della direttiva 2060 e del decreto legislativo 152-2006 che la recepisce. I principali contenuti del piano di gestione che qui sono riassunti sono la descrizione generale delle caratteristiche del distretto, la sintesi delle pressioni e degli impatti presenti che possono influire sui corpi idrici, l'elenco delle aree protette ai sensi della direttiva, le mappe di reti di monitoraggio, l'elenco degli obiettivi ambientali per ciascun corpo idrico, la sintesi dell'analisi economica e la sintesi dei programmi di misure. Qui vediamo una foto di una pagina del sito del distretto del Po in cui sono elencati gli elaborati che compongono il piano di gestione del distretto padano. Va sottolineato che i piani di tutela delle acque regionali costituiscono dei piani stralcio del piano di distretto. La prima fase, la base per la definizione delle caratteristiche del distretto è la tipizzazione delle acque presenti nel distretto. La tipizzazione è un processo che si basa su caratteristiche abiotiche delle zone geografiche che vanno a determinare le caratteristiche delle acque superficiali. In particolare, in un primo processo vengono valutate l'orografia, il clima e la geologia per andare a individuare delle aree omogenee sotto aspetti di questo genere. Nel nostro territorio sono state individuate 21 idroecoregioni che sono presentate in questa diapositiva, appunto omogenee al loro interno. In verità, per ottenere una maggiore omogeneità nelle acque superficiali valutate poi con il monitoraggio, un secondo livello di zonizzazione viene ottenuto tramite la presa in carico della perennità dell'origine e delle dimensioni del corso d'acqua, nel nostro caso, dove le dimensioni vengono valutate con la distanza dalla sorgente. Questa definizione di tipologie di condizioni abiotiche omogenee è molto importante perché è in queste zone omogenee che verranno individuate le condizioni di riferimento rispetto alle quali valutare lo stato delle comunità nei siti che noi andiamo a monitorare. L'analisi delle pressioni e degli impatti prevede l'identificazione delle attività antropiche che insistono, diciamo, sui nostri corsi d'acqua e nelle aree che sono contigue ai corsi d'acqua che possono generare pressioni sugli ecosistemi fluviali. Ovviamente appartengono a differenti settori, hanno differente origine legate alle attività umane e dalla integrazione della tipizzazione su base abiotica dei corsi d'acqua con la tipologia e l'intensità delle pressioni presenti vengono individuati i corpi idrici. Quindi i corpi idrici sono dei tratti omogenei di corso d'acqua che hanno appunto omogeneità sia per tipologia abiotica sia per intensità e tipologia di pressione presente. Per ciascun corpo idrico, che qui viene ad esempio presentato quello che è una cartografia dei corpi idrici nel distretto padano, appunto diciamo per ciascun corpo idrico deve essere data una valutazione dello stato. Per fare questo vengono distribuite sul territorio le reti di siti di monitoraggio che devono permettere di classificare lo stato di ciascun corpo idrico. Non tutti i corpi idrici hanno una stazione di monitoraggio ma la distribuzione delle reti deve permettere la valutazione dello stato di tutti e come questo può avvenire può essere compreso andando a vedere il decreto 56 del 2009. In verità un'altra cosa da dire è che i tipi di monitoraggio possibili sono diversi. Ci sono in particolare un monitoraggio operativo, un monitoraggio di sorveglianza e un monitoraggio di indagine che hanno modalità, frequenze e soprattutto finalità differenti. Il monitoraggio operativo ad esempio serve a classificare lo stato dei corpi idrici che rischiano di non raggiungere gli obiettivi ambientali e inoltre valutare l'andamento di questo stato applicate, una volta applicate le misure. Il monitoraggio di sorveglianza invece oltre a classificare lo stato dei corpi idrici deve servire a seguire l'andamento a lungo termine delle condizioni dei corpi idrici, valutare e verificare l'analisi delle pressioni degli impatti, valutare l'andamento nei siti di riferimento, quindi in condizioni prive di impatti, per valutare se ci sono delle modifiche, dei cambiamenti legati a processi naturali e quindi permettere poi la revisione e l'aggiornamento dei piani di monitoraggio. Il monitoraggio di indagine invece, come dice la parola stessa, deve permettere di fare delle indagini specifiche particolari in certe condizioni che si verificano. Allora, per valutare lo stato chimico dei corpi idrici vengono analizzate nelle stazioni di monitoraggio le concentrazioni di una lista di sostanze, dette appunto sostanze dell'elenco di priorità. Vengono campionate con frequenza mensile nell'anno di monitoraggio e la loro concentrazione non deve superare un valore medio annuo e un valore massimo assoluto, quindi nessun caso deve essere superato questo valore detto SQACMA, pena l'attribuzione al corpo idrico di uno stato chimico non buono. In questa cartina, sempre del distretto Padano, vediamo la situazione chimica delle acque nei corpi idrici. Per quanto riguarda invece lo stato ecologico dei corsi d'acqua, vengono previsti come indicatori elementi biologici, elementi idomorfologici e elementi fisico-chimici. Gli elementi biologici per i corsi d'acqua prevedono alghe bentoniche, piante acquatiche, invertebrati bentonici e pesci. Gli elementi idomorfologici riguardano invece l'integrità del regime idrologico, la continuità fluviale sia longitudinale sia trasversale con la piana inondabile e le condizioni morfologiche. Elementi fisico-chimici invece comprendono sia elementi generali come l'ossigeno, l'ammoniaca e i nutrienti, quindi azoto dei nitrati e fosforo totale, ma anche gli inquinanti specifici, che sono sempre sostanze chimiche che però non appartengono all'elenco di priorità, ma possono essere presenti secondo le valutazioni dell'analisi delle pressioni degli impatti. Rientrano anche queste sostanze nella valutazione dello stato ecologico. Qui vediamo una cartina sempre del distretto padano in cui vengono evidenziati gli stati ecologici con un colore, dal blu al rosso, e come prevedibile nelle aree montane di alta pianura è più facile trovare condizioni di stato migliori, quindi elevato e buono in blu e in verde, mentre in pianura è più facile, con le dovute eccezioni, trovare dei corpi idrici in stato sufficiente e scarso. Comunque sia, l'obiettivo ultimo indicato dalla direttiva e dal 152 del 2006 è il raggiungimento del buono stato chimico e del buono stato ecologico per tutti i corpi idrici. Questo era un obiettivo che tra l'altro all'inizio era previsto per il 2015, adesso i tempi si sono allungati, ma per raggiungere questo obiettivo cardine della normativa serve un programma di misure, vale a dire bisogna intervenire per portare al buono i corpi idrici che al momento non lo sono. Si parte da 25 tipologie di misure chiave, dette KTM, che sono state individuate a livello europeo, che ad esempio nel distretto padano diventano 26 con l'aggiunta della governance. Poi a livello di distretto vengono redatti degli elenchi di misure individuali che vengono fondamentalmente applicate, sono tutte le tipologie di misure applicate sui corpi idrici del distretto. Ovviamente ciascuna di queste misure individuali può essere reindirizzata a una o più tipologie di misure chiave. Qui vediamo degli esempi, in verità le misure di di qualificazione possono anche prevedere l'applicazione di regolamenti, bonifiche di aree inquinate, l'efficientamento dell'uso della risorsa, studi per migliorare la conoscenza del territorio, applicazioni di gestioni particolari delle infrastrutture e così via. Qui vediamo degli esempi, nelle figure, nelle immagini ci sono un depuratore, che è la misura principe, la realizzazione di un depuratore per mitigare l'inquinamento chimico delle acque, oppure il ripristino della certa mobilità, una dinamica morfologica del corpo idrico, che in questo caso era stato canalizzato, oppure il ripristino della continuità longitudinale con questa scala di risalita per i pesci, che altrimenti era stata bloccata da questa traversa. Bisogna poi aggiungere che il valore dei corsi d'acqua, degli ambienti fluviali, era stato riconosciuto già dalle direttive per la conservazione della biodiversità, quindi la direttiva Habitat, la 43 del 92, e la direttiva Uccelli. La direttiva 2060 prevede a riguardo l'istituzione di un registro delle aree protette, per le quali è previsto un maggior grado di protezione, una protezione speciale, e a questo registro devono essere aggiunte tutte le aree ricomprese nella rete del Natura 2000, che appunto riguarda i siti importanti per la conservazione della biodiversità. Misure dette win-win sono quelle che permettono il perseguimento sia degli obiettivi della direttiva Acqua, sia delle direttive di tutela della biodiversità. Andiamo adesso a vedere più nel dettaglio come viene analizzata una comunità biologica al corso d'acqua per dare lo stato di un corpo idrico. Si parte dalla definizione di un indicatore biologico, che è una qualunque reazione biologica che per le sue caratteristiche può essere utilizzata per stimare gli effetti di alcune diverse cause di stress. Per indicatore biologico, quindi, possiamo indicare un particolare processo biologico, un organismo o una intera comunità di organismi. Gli indicatori biologici sono in grado di sintetizzare vari tipi di stress, anche quelli non strettamente legati, ad esempio, alla matrice acquosa, e le loro interazioni, e forniscono l'integrazione di tutti questi stress che è temporale, cioè sono in grado di registrare stress e impatti di questi stress che si susseguono nel tempo, dando così una situazione storica. Per i corsi d'acqua, gli indicatori principali sono le cosiddette componenti biotiche, alcune comunità che si rinvengono appunto nei ambienti fluviali, sono le alghe bentoniche, le piante acquatiche, gli invertebrati bentonici e i pesci. Vediamo qui delle immagini, queste sono del diatomè, che sono delle alghe bacillari officee, alcune sono bentoniche, ma esistono anche delle forme planktoniche, ma per i fiumi per lo più vengono utilizzate quelle bentoniche. Le macrofite delle acquecorrenti sono piante non solo superiori angiosperme, ma anche muschie epatiche e alghe filamentose visibili a occhio nudo. I macroinvertebrati bentonici sono un insieme di animali invertebrati legati, almeno durante una fase della loro vita, al fondo del fiume, per questo vengono definite bentonici. E poi c'è la fauna ettica. Tutte queste comunità vengono valutate andando a analizzare delle caratteristiche misurabili che sono richieste dalla direttiva stessa, che sono la composizione di specie e gruppi, l'abbondanza degli organismi e la tolleranza, sensibilità alle alterazioni ambientali di ciascuno di questi gruppi. Queste stesse caratteristiche vengono valutate sia nel campione raccolto nel sito che stiamo monitorando, sia in comunità che si trovano in condizioni di riferimento, vale a dire prive di alterazioni di origine antropica significative. Dal confronto tra la comunità campionata e una comunità in condizioni di riferimento, ottenuta in vari modi possibili, ma che comunque deve rappresentare le condizioni di riferimento, otteniamo un indice di qualità. In primis un rapporto di qualità ecologica, quindi un rapporto che va da 0 a 1, 0 quando le condizioni sono pessime, 1 quando le grandezze misurate nella nostra comunità monitorata sono simili alle stesse grandezze misurate in comunità di riferimento. Dividendo questo intervallo da 0 a 1 in 5 classi di giudizio, otteniamo gli stati elevato, buono, sufficiente, scarso e cattivo con cui vengono classificati i corpi idrici. Ovviamente questo processo vale per ciascuna comunità e il giudizio finale verrà ottenuto dall'integrazione col cosiddetto principio del vince il peggiore, o one out, all out. Vale a dire il giudizio che si dà al corpo idrico è quello relativo alla comunità che ha ricevuto il giudizio peggiore. A questo giudizio delle componenti biologiche si aggiungono il giudizio delle componenti fisico-chimiche e idromorfologiche per ottenere lo stato ecologico. Allora, i macroinvertebrati sono un gruppo definito su base funzionale, vale a dire che sono un insieme eterogeneo di organismi appartenenti a differenti gruppi tassonomici, ma sono accumunati dal fatto di essere tutti durante una fase del loro ciclo vitale più grandi di un millimetro, quindi visibile a occhio nudo, ed essere fondamentalmente legati al fondo del fiume, infatti vengono definiti i macroinvertebrati bentonici. Ci sono anche alcuni gruppi più rari di quelli che sono qui elencati che raramente vengono presi in carico. Per fare una veloce carrellata possiamo dire che ci sono soprattutto larve di insetti di differenti ordini, i plecotteri, gli efemerotteri e i tricotteri, ma anche gli odonati, che sono presenti anch'essi solamente con le larve, sia di libellule che di damigelle, che sono fondamentalmente delle piccole libellule. Ci sono poi le larve dei ditteri, quindi mosche e zanzare, presenti esclusivamente con le larve. Ci sono invece poi organismi che sono presenti sia con l'adulto, sia con le fasi larvali, come ad esempio i coleotteri o gli eterotteri, detti anche bulci d'acqua. Esistono poi degli organismi appartenenti al tipo dei crostacei, di differenti gruppi, o anelli di sia sanguisughe sia parenti dei lombrichi. Ci sono poi i vermi piatti, come i turbellari, e i molluschi, con i gasteropodi e i bivalvi. Diciamo che i macroinvertebrati vengono definiti dei buoni indicatori biologici per una serie di motivi, fra cui, come abbiamo visto, il gran numero di gruppi e il gran numero di specie appartenenti a questi gruppi. Siamo intorno alle 10.000 specie. Questo permette di avere differenti organismi che rispondono in maniera differente a differenti livelli di stress e quindi danno parecchie informazioni. Inoltre sono organismi ubiquitari, quindi sono presenti in tutte le tipologie di corsi d'acqua, dalle acque di scioglimento dei ghiacciai fino ai grandi fiumi di pianura. Sono molto abbondanti e quindi facili da campionare. Sono sedentari e quindi la valutazione fatta su una comunità raccolta in un sito riguarda gli effetti, gli impatti degli stress su quel sito. Inoltre hanno lunghi cicli vitali, relativamente lunghi, nell'ordine degli anni, che permette di integrare temporalmente differenti stress. Infine sono molto studiati, sono organismi studiati da secoli e quindi si sa molto di come vanno le comunità al variare degli stress. Una cosa molto importante per ottenere un giudizio robusto e significativo dello stato di una stazione, di un corpo idrico, è che la comunità che noi andiamo a campionare, il campione che otteniamo sia rappresentativo della comunità che effettivamente è presente in un sito. Per fare questo bisogna utilizzare dei metodi che garantiscano la rappresentatività. Quello più utilizzato a livello europeo e che anche in Italia viene utilizzato è il cosiddetto metodo di campionamento multiabital proporzionale, che è stato messo a punto in America ma che è stato adattato alla situazione italiana dal CNR IRSA. La prima fase riguarda l'individuazione dei mesoabitat, quindi quelle porzioni di corso d'acqua omogenee per caratteristiche idrauliche e di substrato che ci permettono di individuare delle aree in cui andare a fare il campionamento, sapendo che comunità differenti si vanno a instaurare in differenti mesoabitat. Ad esempio tipica è l'individuazione dell'alternanza fra pool, area a corrente più debole, rispetto al riffle, che sono invece delle aree in cui la corrente è più forte. Esistono ovviamente anche altri mesoabitat. Per quanto riguarda invece poi l'effettuazione del campionamento, la prima cosa da fare è andare a stilare l'elenco dei microhabitat presenti, quindi dei tipi di substrato, sempre dall'assunto del fatto che differenti organismi saranno legati più o meno a differenti tipi di substrato. Si hanno così substrati microhabitat di origine abiotica come argilla, sabbia, ghiaia, ciottoli, massi o addirittura la pietra nuda, o microhabitat di origine organica come il residuo grossolano, il legno, le piante terrestri o le macrofite. Qui ci sono degli esempi di microhabitat come microliti e mesoliti, i grossi massi, le macrofite emergenti, quelle sommerse o le parti viventi di piante terrestri che sono immerse in acqua, che sono molto importanti perché sono microhabitat molto ricchi di biodiversità. Una volta stilato l'elenco dei microhabitat presenti, si va a valutare l'abbondanza di questi microhabitat, perché così potremmo disporre poi le nostre repliche, cioè le nostre applicazioni dello strumento di campionamento, in maniera proporzionale all'abbondanza dei diversi microhabitat. Se ad esempio noi abbiamo 10 o 20 repliche da posizionare, andremo a posizionarle proporzionalmente con l'abbondanza dei microhabitat. Qui c'è un esempio. Lo strumento di campionamento è la rete Surber, che è un retino che presenta anteriormente davanti al telaio, un altro telaio perpendicolare che circoscrive un'area di superficie definita, o un ventesimo o un decimo di metro quadrato, che permette di fare delle valutazioni su superficie standardizzate, che è importante per poi poter fare delle valutazioni sull'abbondanza. Vediamo di seguito un breve filmato che mostra l'applicazione di questo strumento sul campo. Il campione raccolto con la rete Surber, in particolare dopo aver staccato il bicchiere, viene riversato in dei secchi e da questi secchi prelevati un po' alla volta dei quantitativi che permettano, una volta riversato il contenuto in una vaschetta a fondo bianco, l'osservazione e lo smistamento, quindi la raccolta con delle pinzette entomologiche, degli organismi raccolti. Ovviamente bisogna fare in modo che il fondo sia visibile e quindi non eccedere con il quantitativo di campione che viene riversato nelle vaschette. Man mano vengono smistati gli organismi e viene fatto un primo riconoscimento, almeno per quanto riguarda le famiglie di cui si ha certezza e prima di cambiare la vaschetta si procede a un conteggio degli organismi presenti, gli individui per ciascun gruppo, annotandoselo per poter poi arrivare alla fine ad avere un conteggio dell'intero campione. Una volta ottenuta la lista degli organismi, quindi delle famiglie presenti nel campione che abbiamo raccolto, si può passare a elaborazione dei risultati per ottenere il valore dell'indice di classificazione. Quindi si ha un'abbondanza di ciascuna famiglia, individui per metro quadrato e questi valori possono essere utilizzati per calcolare l'indice di classificazione che per i macroinvertebrati è lo stati CMI, definito dal CNR IRSA, che è un indice multimetrico, cioè formato da più metriche che vanno a guardare differenti caratteristiche delle comunità. Questo indice restituisce un rapporto di qualità ecologica dal quale si ottiene un giudizio di qualità. Diciamo che la spiegazione dell'indice va oltre le finalità di questa presentazione e quindi vi rimando alle pubblicazioni del CNR IRSA per approfondire come si ottiene il giudizio per i macroinvertebrati con lo stati CMI. Grazie mille per l'attenzione.